Ciao a tutti amici miei e benvenuti in questo tutorial in cui vi farò vedere, me l'avete chiesto in tantissimi, parecchi mi hanno detto come faccio io quando apro la PS4 che sto facendo la pulizia e chi se la fa da solo, chi è capace, io vi ripeto sempre che questi tutorial che carico infatti io imposto sempre non destinati ai bambini ma non perché voglio escludere tutti, perché? Perché praticamente è roba elettrica, è pericolosa su un certo punto di vista, su alcune cose è pericolosa, bisogna usare cacciaviti, forbici, quindi logicamente è pericolosa perché si può prendere la corrente, ci si può far male con il taglierino, cioè questo è soltanto per chi ha una certa dimestichezza, quindi che già ha mani in pasta come si dice, quindi ha una certa dimestichezza a smontare le cose, quindi per chi lo sa fare ecco, diciamo o per chi si avventura però ha una certa dimestichezza con usare tutte le attrezzature, mi raccomando per i bambini se volete farlo fatelo ma fatelo fare ai vostri genitori, non voi, perché qui bisogna usare bisturi, bisogna usare forbici e queste sono come, cioè queste sono corte e sono dell'elettricista e sono come rasoi, il filo è molto molto tagliente, quindi attenzione quando usate attrezzature o pinze magari che sono appuntite, quindi attenzione, dico questa breve cosa perché magari è meglio specificare perché molti pensano perché mi contattano, ce l'ho fatto io, magari è minorenne, ce l'ho fatto io però non toccate niente perché poi c'è la corrente, attenzione che lì è brutta, quindi attenzione. Allora sempre con una tutta, mi raccomando vicino, se siete maggiorenni invece potete farlo però magari se avete dimestichezza, se avete dei dubbi lasciate stare perché anche io su certe cose magari di muratura, di falegnameria, che non sono capace proprio, non ho studiato, quindi non sono capace, anche se mi arrangio, lo faccio a casa, ma non a casa degli altri oppure mi avventuro perché altrimenti farei un disastro, ecco perché non sono capace. Allora, a grande richiesta vi dico, chiusa la parentesi, ok? Allora a questa grande richiesta vi farò vedere, parecchi me l'hanno chiesto, quando io apro la playstation, che sto facendo la pulizia, tolgo il filo del connettore, questo è il connettore, vabbè non vedete qui che lo, poi vi spiego perché ha questo, ha i termorestringenti. Allora, quando, questo è uno così per prova, allora, quando io tolgo il cavo, spesso capita o nella pro e nella fat, ma più probabilmente nella pro, che si strappi il connettore ma quello non si risolve, non è? E oppure capita raramente che si stacca un filo, cioè alcuni prendono il connettore, quando prendete il connettore per estrarlo, io vi faccio vedere come si fa. Allora, allora, si fa sempre in questo modo, allora, con le pinze a becco, un po' curvo se è possibile, si prende tutte le piste, tutte, cioè tutti i fili, non uno solo, se lo prendete con uno solo può strapparsi, quindi tutte da vicino, non da lontano, mai tirarle da qua giù, come le spine della corrente che alcuni tirano da due metri, lì viene appresso la presa o succede qualche danno. Ma sempre da vicino, quindi la prendete molto vicino qui, se è possibile, e muovendolo a destra e a sinistra, mano a mano, lo staccate. So che è un po' duro, poi l'ho spiegato, l'ho fatto vedere in un video, anche come si fa, questo è dalla parte dell'alimentatore, poi dalla parte della motherboard l'ho fatto vedere. Però la tecnica è sempre quella, sempre con le pinze, dalla parte della motherboard prendete con le dita in questo modo, ma dalla parte del connettore ce la fate con le dita, però sempre meglio con le pinze. Ecco, facciamo finta che questo è l'alimentatore, sta attaccato circa qui, reggete l'alimentatore o con le mani o con le pinze, però sempre tutti insieme. Può capitare che però qualcuno tiri un cavo solo e si stacchi questo cavo. Quindi cosa succede? Facciamo ad esempio che io ho questo cavo, prendiamo questo, vediamo qual è, sì è questo qui. Allora, ho questo cavo, tiro il cavo, mi si stacchi e mi faccia questo lavoro. Quindi mi si stacchi un filo, molto difficile, però può capitare perché me lo avete chiesto, quindi... Allora, mettiamo, vediamo se si riesce, ok, ehi, dove vai? Ok, teniamolo così. Allora, ecco, qui manca un pin, si è staccato un pin, di solito ci sono questi blocchi che reggono il filo, però in alcuni modelli non ci sono. Questo, diciamo, regge il filo come quello dell'antenna di una volta che tu mettevi nello spinotto e lo stringevi con le pinze. Questo è una cosa simile, hanno fatto, diciamo, molto simile l'attacco, però in alcuni modelli non c'è questo. Allora, se non c'è, voi cosa fate? Se vi si taglia il filo in questo modo, come è successo qui, cioè che manca un pin che vi si strappi tutto, che è questo, eccolo qua, ve lo faccio vedere da vicino, questo qui, allora, non so se si riesce a vedere, eccolo qua, questo, questo è il pin. Allora, questo che è l'attacco femmina, cosa ha di particolarità? Che, allora, qui ha il blocco, questi sono le alette, eccola qua, questo è il blocco che poi va stretto e poi ha due, qui uno e due, blocchi fatti a V. Sono messi così, in questo modo, ecco, così, a V. Perché a V? Perché quando il filo ci va dentro con tutta la guaina, simuliamo che questo, ve lo faccio vedere ingrandito perché è il filo con la guaina al cacciavite, quando è a V va dentro, il qui è affilato, le lame sono affilate ai lati, sono un po' affilate, quindi taglia la guaina arrivando fino alla fine che è stretto, che è a V, praticamente arriva al contatto a rame e quindi ecco com'è il contatto, questo non è saldato, questo è a pressione e messo. E' lo stesso del video che ho fatto della reti LAN, lo stesso, perché tu con quelle forbici apposta gialle mandi dentro il cavo, è la stessa tipologia, solo che qui ha anche i blocchi, quindi dopo che ci sono queste due, diciamo, V di metallo fatte così, ecco, una dietro e una avanti, perché prende due per sicurezza, se ne ho due perché prende in due punti diversi, poi c'è alla fine un blocco, ad esempio, c'è un blocco come questo che prende, che viene stretto con le pinze, qui ci sono una V qui, una V dall'altra parte di metallo, del connettore, questo ve lo semplifico, e qui c'è un blocco che tiene praticamente il cavo, però su alcuni modelli non c'è, può capitare che si frappi o tutto il connettore o soltanto il filo, se vi si toglie soltanto il filo o tutto il connettore, in questo caso si è staccato, ma non è un problema, ma che succede? Vi faccio vedere come si rimette, perché molti me l'hanno chiesto, come faccio a rimetterlo? Allora, non è semplicissimo perché questo ha il blocco, però quelli coni senza blocco sono più semplici. Allora, voi cosa fate? Facciamo ad esempio che un cavo, ecco, adesso li separo, in questo modo, che un cavo gli sia successo questo, ecco, dice adesso come faccio io? Allora, se il filo è abbastanza lungo, che potete spellarlo e riattaccarlo, cioè che è molto vicino, bene, se vi si rompe un pezzo del genere, voi dovete fare, dovete toglierlo da qui, ma anche dall'altra parte del connettore, quindi sia qui che dall'altra parte, sostituirlo tutto intero. E vi faccio vedere di che sezione è fatto e come potete sostituirlo, qual è il filo migliore. Allora, se noi andiamo a prendere il calibro, questo è digitale, che adesso vi faccio vedere, ok. Allora, che succede? Mettiamola a zero, andiamo a misurare la spessore del filo, che è circa 0,99, quindi è molto, molto piccolo, non è neanche uno. Ecco, in questo caso è zero, eccolo qui, 0,98, 97, ecco, bene o male, stiamo lì. Ok. Questa spessore di filo non solo è così fino, ma dentro ha anche del rame, che è abbastanza consistente, quindi molti mi hanno detto, posso sostituirlo con i fili delle vecchie IDE, porte IDE del PC, questi? Sì, anche se sembrano uguali di colore, di tutto, ma questi sono più fini, sono più fini, sono da praticamente 85, come l'ho misurato, ma anche se fosse da 99 esterno, dentro c'è pochissimo rame, pochissimo. Cioè, praticamente, questo, vi faccio vedere quanto è il rame che sta qui, o l'alluminio, quello che sia, cioè il contatto interno, che qui c'è, perché qui porta, non solo porta la 5 volts, quindi non solo porta più e meno della 5 volts, eccolo qua, c'è però il rame, cioè l'alluminio, il contatto interno, eccolo qui, eccolo. Quindi ce n'è abbastanza, perché questo connettore cosa fa? porta, indipendentemente se è a 5 poli o a, o praticamente, se è a 5 o a 4, comunque ci ho fatto anche il video su questo, e questi sono, allora, due negativi, scusate, è un negativo positivo, quindi da 5 volts, e poi ci sono i due, che sono questi, eccoli qui, 15 è. Allora, ve lo faccio vedere qui. Questi due che ho messo in corto sarebbero l'on e off, che accende la 12 volts. I due, questi, laterali, sono la 5 volts, quindi più e meno, quindi ci passa una tensione che va a alimentare il carrello, il blu-ray, quindi sia il blu-ray che lo stand-by, quindi i motori del blu-ray è tutto, quindi non bisogna metterlo troppo fino, se no non regge, non ce la fa. Io che consiglio? Io consiglio, sempre molto simile, questo. Questo è il cavo delle ventole, il cavo delle ventole del PC, eccoli qua. Non i connettori, perché sono molto spessi, poi non ci vanno nel, diciamo, nel connettorino, ma questi. Questi sono, bene o male, la stessa misura, cioè io vado a misurarne uno, ok? Questo è un po' rigido, è leggermente, ma ci sono molti che sono molto morbidi. Se lo vado a misurare io, mettiamo a zero. Eccolo qui, ci siamo, stesso, uguale, eccolo qui, 96, 90, cambia di un pochissimo, di 0,01 più grande, cioè di pochissimo. Quindi non c'è problema, va benissimo, quindi anche questo va bene. L'importante, se lo volete fare a occhio, lo potete anche vedere, però vedete che dentro ci sia, ma constatate, cioè che dentro ci sia un bel po' di, o di rame, o di alluminio, cioè che sia un po' consistente. Ecco, perché altrimenti questo porta, questo perché è fatto così, quello della ventola è praticamente negativo, positivo 5 volts, 12 volts, e vabbè il sensore. Quindi praticamente ha delle tensioni come la 5, la 12, come la stessa cosa della Playstation. Quindi i capi sono abbastanza, non è che la ventola assorbe tanto, però, diciamo, questi vanno bene. Allora, detto questo, ci vediamo nella seconda parte perché sono arrivati a 11 minuti e vi spiego meglio, vi faccio vedere il tutto. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!